La vita somiglia un po' al portiere della squadra che prende il pallone da dove se lo putano e la vita la si deve prendere da dove viene. Il deporte salva del egoismo, aiuta a non essere egoista, per questo è importante lavorare in equippo e studiare in equippo e andare il cammino della vita in equippo. Fuggire alle sfide della vita mai è una soluzione. Se non impariamo a prendere la vita come viene, mai mai impareremo a vivere. Non rischia, chi non rischia non cammina, ma se sbaglio, ha ben detto il Signore, sbaglierai di più se tu rimani fermo, ferma. Non siamo venuti al mondo per vegetare. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. Grazie. Grazie.